I finanzieri dei GICO di Caltanissetta e Catania hanno individuato e tratto in arresto due persone le quali, nei pressi della casa circondariale Nissena, intendevano utilizzare un drone per recapitare all'interno del penitenziario un involucro contenente sostanze stupefacenti e numerosi telefoni cellulari. L'operazione delle fiamme gialle ha consentito di seguire le mosse dei due soggetti giunti da Catania in auto con uno zaino contenente un drone e 10 telefoni cellulari di piccolissime dimensioni, oltre a 100 grammi di marijuana e 150 grammi di hashish. Sono stati inoltre sequestrati quattro smartphone nella disponibilità dei due arrestati. Nella vettura sono stati anche trovati 5.000 euro in contanti occultati sotto lo sterzo dell'auto che dovevano costituire il compenso per il pilota del drone. Gli indagati sono stati trasferiti in carcere. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare della custodia in carcere per uno e la detenzione domiciliare con presidio elettronico per l'altro.